Oh, ciao Drusilla. Oggi parliamo di un uccello molto misterioso. È molto difficile da scovare, lo si può osservare volare durante la notte oppure nel crepuscolo di calde giornate di giugno. Si può anche ascoltare il suo canto che è un po' misterioso e quasi inquietante, aggiungo, è proprio questo. Sì, è un po' strano. Il nome di questo uccello ve lo dico dopo, è proprio questo qui. Vedete, ha questa colorazione mimetica, proprio per confondersi con l'erba secca. Durante il giorno lo si può osservare, lo si può trovare, scovare nell'erba secca proprio è molto difficile da osservare perché ha la stessa colorazione della legna, ad esempio. E ha questo beccuccio molto piccolo. In realtà quando spalanca la bocca sembra quasi un mostro, proprio perché durante la notte apre la bocca mentre che vola per cacciare gli insetti al volo. Si chiama succiacapre. Sì, è un nome un po' strano per un uccello. Si credeva che durante la notte andasse a succiare il latte delle capre, invece si è scoperto che era anche utile alle colture perché cacciava gli insetti dannosi. Detto questo, se la natura la conosce, la ami e se la amai, la proteggi. Ciao! PS, lo sapevate che, visto che il nome succiacapre non è molto bello, prima gli scienziati lo chiamavano o caprimulgo, che sarebbe la stessa cosa in latino, oppure nottolone, che già suona meglio. E comunque è molto difficile da scovare e per questo adesso lo vado a cercare.